19 incidenti mortali sul lavoro da gennaio a luglio 2022. Questo il drammatico dato che riguarda la Regione Marche, un dato regionale al quale si aggiungono i 10.352 infortuni sul lavoro, una cifra che denota un aumento del 25% di infortuni sul lavoro. È una strage silenziosa, una strage che nel 2022 conta 600 incidenti mortali in tutta Italia, una situazione che si declina in questi giorni in diversi presidi. Ieri la giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro, oggi i riflettori accesi in tutte le fabbriche per quello che riguarda uno sciopero di un oro, uno sciopero simbolico con assemblee pubbliche organizzate in tutte le aziende, eccezione fatta per quelle dei servizi essenziali, ma soprattutto bandiera al vento anche in Piazza del Popolo, qui all'angolo tra Via Branca e Piazza del Popolo, CGL, Cisle, Will, unite per chiedere più attenzione, più prevenzione, una richiesta che viene portata fino al tavolo del prefetto Ricciardi. Noi abbiamo bisogno che ci siano servizi di prevenzione efficienti, che siano ispettori che possano verificare sui luoghi di lavoro, che abbiamo bisogno che l'INAI faccia il proprio lavoro, che le stazioni appaltanti, soprattutto gli appalti pubblici, siano il più possibili attenti al problema degli infortuni sui luoghi di lavoro e abbiamo bisogno di una cultura, di far crescere una cultura anche dentro le imprese. Per cui chiediamo con questa iniziativa che facciamo qui a Pesaro, ma che poi avrà un epilogo a Roma il 22 ottobre, chiediamo che ci sia un'attenzione e un focus per poter far emergere questo problema e trovare insieme delle soluzioni per poter far ridurre questo numero. Noi abbiamo bisogno di un tavolo che metta insieme tutti i soggetti, a partire dalle istituzioni, a partire dagli ispettori del lavoro e dall'ASUR, per cui questa è la priorità. Oggi facciamo questo presidio e nelle fabbriche abbiamo proclamato lo sciopero di un'ora e poi è assolutamente non necessario ma urgente convocare le parti sociali e le istituzioni per affrontare il problema. C'è anche da tenere presente che gli infortuni che vengono denunciati non sono tutti quelli, ahimè, tristemente, che succedono sul luogo di lavoro, perché purtroppo capita che nelle aziende non sempre viene denunciato l'infortunio. Quindi le cifre che abbiamo sono solo quelle che emergono dalle denunce che vengono fatte. Purtroppo questa, diciamo così, dinamica è una dinamica che ci portiamo dietro da troppi anni e abbiamo bisogno che le istituzioni in primis si attivino in maniera molto più importante rispetto a quello che è avvenuto fino ad oggi, facendo le giuste assunzioni per quanto riguarda tutti i dipartimenti di prevenzione e per quanto riguarda gli ispettorati del lavoro, ma allo stesso tempo abbiamo la necessità di costruire ancora di più una cultura della sicurezza che è trasversale, che va dalle imprese ma che passa anche per i lavoratori.